Di tenergli testa e di cercare di consigliargli il meglio, che lavori e che sia un uomo sempre onesto, come il profeta Sallallahu alaihi wa sallam ci ha insegnato. Grazie mille. Sì, ho seguito l'incontro, ma in Sicilia, insieme alla mia famiglia e tanti altri amici. Non mi trovavo a Ponte d'Era. Sì, ero molto fiduciosa, ho sperato fino alla fine, ho pregato, e là il Allah, mio marito ce l'ha fatta. Grazie mille. 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 alla quinta impresa da Poteo Nuki e tre secondi, Muhammad Ali, dettore di Ayer! Premier dottor Benedetto Nutella, presidente dell'Europa e dai piedi! Facciamo un bel applauso anche a Gustav Ayril, che ha dimostrato un grande coraggio! Amiri Gianni! E' la fine dell'incontro! Signore e signori, anche Muhammad Ali in Italia è pronto!